e allora come è andata a finire? È andata a finire come avevamo già detto giovedì e venerdì ovvero da un lato sui mercati finanziari un piccolo spostamento nell'asse della disposizione delle varie candele degli ultimi venti venticinque giorni sul grafico stava a dimostrare che probabilmente al di là del fatto che la volatilità è ancora piuttosto robusta e che il balletto sui minimi si sarebbe continuato a verificare e ce ne siamo accorti nella giornata significativamente di giovedì scorso un certo spostamento di asse verso un rimbalzo un po' più corposo era nell'area poi giovedì è arrivata la crisi italiana io mi sono mi sono messo a ridere quando non ho nulla da fare vado a guardare i commenti dell'italiano medio classe a cui appartengo orgogliosamente che giustamente stigmatizzava l'uscita un po' assassina di conte dicendo che bisognava far lavorare draghi eccetera infatti i sindaci si sono tutti mossi in coro preoccupati anch'essi delle loro poltrone e quindi c'è questo appello a draghi in realtà a Mattarella la crisi non la voleva e io ho fatto un video venerdì scorso mi dimetto ma non troppo perché era matematicamente impossibile che draghi se ne andasse troppe pressioni anche da fuori italia perché il pres la presidenza del consiglio non cambi troppe pressioni perché non si va dalle elezioni ammesso e non concesso che possono chiamarsi tali quelle a cui assisteremo nel duemilaventitré ho qualche dubbio nel frattempo il Titanic continua la sua corsa il gas non c'è le paure di recessione non ci sono ma l'estate deve passare ascoltando le canzonette di Elodie ascoltando di Maneskin e tutte le altre stronzate che il sistema vi propina e alle quali molti di voi credono e contemporaneamente i problemi che ci sono è giusto che vengano rimandati a una stagione un po' più fresca tecnicamente parlando nel breve si sono andate a costituire delle zone di supporto perché il mercato pensa e secondo me non sbaglia che il conflitto dell'Ucraina a un certo punto andrà a ricomporsi e che questi che stiamo vedendo poi può darsi che le cose cambino ma io mi auguro invece che la previsione del mercato e la mia approvazione siano nel giusto che questi siano gli ultimi missimi gli ultimi sparati che poi a un certo punto Don Basso meno i due contendenti si metteranno a un tavolino si spartiranno quello che sia da partire tutti tutti vinceranno come nel mantra della politica e come vi facevo notare nel video di stamattina siamo dentro proprio fino al collo nella morale del gatto pardo che secondo me oltre a essere un bellissimo romanzo di Sciascia poi è stato fatto un film meraviglioso su questo quello che va detto quello che va detto è che nella buona sostanza nella buona sostanza cambia tutto ma perché tutto resti com'è quindi cambia tutto anche nella guerra e cambia tutto anche nella politica italiana Conte credendo di rappresentare un movimento importante si mette contro Draghi Draghi lo lascia sfogare fa delle finte dimissioni e intanto buona parte di questa gente se ne va via direttamente 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 dal partito per andare da Gigino e Gigino è il più grande rappresentante di scuola limitiana e questo modo gattopardesco di vedere le cose tra l'altro un paio di minuti fa ho detto una stupidaggine perché il gatto pardo non è di Sciascia mai di Tomasi di Lampedusa ma detto ciò il superamento di questa bella area di 12.800 del DAX è zona anche di volume importante 840 740 partendo da 440 sostanzialmente ci sono dai 350 punti di differenza 350 punti da 750 che un po' un lavoro medio fra 8 eccetera eccetera più 350 fa 13 e 100 13 e 100 significherebbe arrivare con molta allegria ma stare calmo ad andarci short in un'area abbastanza importante del DAX che è quest'area qua la andiamo a misurare partiamo dal DAX e poi velocemente ci guardiamo tutti gli altri settori qui si cercherà di capire nel breve il mercato cosa vuole fare se si guarda con attenzione questa struttura questa è una struttura che 12 e 4 13 sono mille e 600 punti si può tornare un po' su eh si può tornare un po' su quindi detto questo detto questo detto questo non andrei a impostare operazioni a ribasso adesso sia sulle azioni che sui principali indici azionari ma lascerei il mercato andare a salire e lo asseconderei almeno da qui ai prossimi giorni prendendo magari del sano profitto qualora ci sia un po' prima di BCE perché quando c'è il BCE questi sono una banda di pazzi si sa che cosa dico cosa non dico devono arrivare le trimestrali ma io credo anche osservando il comportamento dei principali listini americani a seduta di venerdì la mia impressione è che gli americani se no una salita così forte non te la facevano già un po' le trimestrali le abbiano messe nei prezzi e conoscano alcuni dati e probabilmente pensano by the rumors sell the news ma in quel caso sell the rumors by the news ovvero quando poi usciranno le notizie tutti i bilanci faranno schifo il mercato non la prenderà poi così male perché comunque giudica che siamo su un picco di rinforzione che fede comunque è coerente che gli altri gli andranno dietro e giudica che il lungo termine che è ancora molto fumoso sia poi tutto un insieme di tanti periodi di breve così stanno facendo anche nelle principali sale trading incognita 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 è questa il btp stamattina se bund stamattina i bond in europa ti scendono un poco in america molto meno però il btp perde 0 79 dalle chiusure di venerdì 0 80 il bund perde 0 22 quindi lo spread che è comunque andato un po sopra 200 piuttosto elevato sta indicare che probabilmente draghi resta probabilmente draghi resta a meno di tradimenti dell'ultima ora ma bisogna vedere in che condizioni resta all'interno di un paese che come condizioni se non ha le pezze al sedere secondo me poco ci manca ergo direi di guardare per il nostro fuzzimib attentamente le condizioni dello spread perché potrebbe dar fastidio è l'unico mercato sul quale di lungo termine ho degli short aperti perché per il resto sia di lungo che di breve le borse le ho tutte a rialzo e vi faccio anche vedere da quando e da come e perché ho tutti flat sul dax su base settimanale domani potrebbe girarsi a rialzo resto l'onga 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 ok quindi i segnali sono tutti rialzisti molta 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 attenzione in quel caso ora un'altra cosa che dobbiamo andare a guardare per capire come orientarci oggi sarà sicuramente sempre il discorso dell'eurodollaro che ha avuto un rimbalzino interessante queste ultime sedute ancorché modestuccio ma sta provando a tenere botta forse sconta un po' anche bce il supporto di uno è stato molto lavorato ma anche molto difeso il sentiment sembra in buona accumulazione non escludo che si scenda di circa 50 pip nella seduta di oggi potrebbero essere una situazione dove andare a prendere di nuovo una rincorsa però non andrei a mettere i soldi sull'eurodollaro in questo momento così come su tutte le valute legate alla nostra su tutti i cross e la nostra perché dovevamo aspettare bce e c'è ancora in italia tutta una certa serie di cose da vedere mi sto cercando di sintonizzare su dollaro yen avevo detto nei giorni scorsi che in area 140 ci poteva essere anche l'occasione di un alleggerimento così pare esservi stato va capito se era perché si andava in prossimità di un prezzo interessante oppure se invece è solo un alleggerimento anche se cospicuo ma cospicuo è stata la salita in attesa poi di riprendere un po' quota niente altro da segnalare se non anche se il dollo si attenua le materie prime riprendono un po' forza però in termini di forza le materie prime al momento guardiamoci questo rimbalzo del copper ma non andiamo a farci dei gran sogni particolari idem per quanto riguarda il petrolio è sceso tantissimo per cui i rimbalzi possono essere un po' più che giustificati supporto a 95 su cui mettere degli allarmi per capire se il greggio da 90 ha creato una base oppure se solo un rimbalzo tecnico da profondissimo sciacquone di per venduto vedete che il petrolio le fa queste cose le fa a casa nostra ripeto influenzati molto dall'andamento dello spread l'apertura è simpatica oggettivamente parlando ma non certo quanto quella del DAX anche se si nota un po' di riflessione in questi ultimi minuti in attesa dell'arrivo dell'indice questo più o meno sono indicazioni che mi sento di vedere finanza gattopardesca politica gattopardesca la finanza è così è sempre stata così a volte ci sono grandi rivolgimenti nel breve non ci si capisce nulla poi se si guarda il trend è lungo le cose sono un pochettino più care buon inizio di settimana a tutti voi